Per poter utilizzare tutti i servizi che Facebook ci mette a disposizione, dobbiamo creare un account Facebook. Trovi maggiori informazioni sul significato di account, registrazione e dati di login nel capitolo sugli account. Se già disponi di un account Facebook, limitati pure a seguire questo video senza effettuare alcuna operazione. Altrimenti apri il browser e vai al sito www.facebook.com. Qui troviamo due elementi. La maschera di login, che serve per gli utenti già registrati, qui inseriremo email e password per accedere al nostro profilo Facebook. E la maschera di registrazione, che serve per creare un nuovo account. Quindi se non disponiamo di un account Facebook, possiamo registrarci compilando i campi di questo modulo. Inseriamo nome e cognome, indirizzo email, che ripetiamo per conferma. Questo indirizzo sarà quello che useremo più avanti per accedere a Facebook. Scegliamo una password. Nel capitolo sugli account trovi alcuni consigli su come creare una password sicura. Indichiamo data di nascita e sesso. Prima di continuare possiamo dare uno sguardo alle condizioni di servizio e alle regole sull'utilizzo dei nostri dati cliccando sui relativi link, che si aprono in nuove schede del browser. Infine premiamo il tasto registrazione. A questo punto si apre una procedura guidata che ci aiuta a trovare i nostri amici e conoscenti che già sono presenti in Facebook. Per il momento saltiamo i primi due passaggi perché li riprenderemo in seguito. Clicchiamo questo link, confermiamo pure con salta e saltiamo anche questo passaggio. Nel terzo passaggio ci viene data la possibilità di impostare un'immagine che verrà associata al nostro profilo Facebook. Possiamo caricare una foto presente nel nostro computer, scattare una foto se disponiamo di una webcam, oppure saltare anche questo passaggio se vogliamo occuparcene in seguito. Se scegliamo di caricare una foto, clicchiamo il pulsante Scegli file e nella finestra che si apre navighiamo all'interno del nostro computer per poi selezionare la foto che vogliamo e cliccare il pulsante Apri. Eventualmente possiamo anche ricominciare cliccando il link Rimuovi la tua immagine. Se invece siamo soddisfatti, clicchiamo Salva e continua. Bene, la registrazione è quasi conclusa. Non ci resta che andare alla nostra casella di posta elettronica e seguire le istruzioni nell'e-mail di conferma che Facebook ci ha inviato. Possiamo usare questo pulsante per essere reindirizzati. Vediamo che Facebook ci ha inviato due messaggi. Il primo è un messaggio di benvenuto che contiene alcuni link e informazioni iniziali. La seconda e-mail contiene il link di attivazione del nostro account. Se lo clicchiamo, veniamo automaticamente reindirizzati all'interno del nostro nuovo account Facebook. Prima di passare al prossimo video, inseriamo un collegamento diretto a Facebook nella barra dei preferiti del browser. Trovi indicazioni dettagliate su come farlo nel capitolo sul browser. Grazie. Grazie.